Alla luce del prolungato periodo di sospensione delle attività didattiche a seguito del decreto del 4 marzo 2020, l'istituto ha costituito uno special all'interno del canale YouTube di StudentiG, appositamente dedicato a video-lezioni e video-tutorial creati da tutti i docenti delle classi quinte, per permettere agli studenti di studiare e approfondire determinati argomenti utili in modo più smart, sostenendoli con lezioni appositamente costituite a seconda della materia per accompagnarli nel loro percorso di studio a casa. Abbiamo pensato come StudentiG di chiamarlo operazione salvataggio maturità, salvataggio maturità in modo tale da poterli agganciare e non perdere in questo momento molto importante. All'interno del salvataggio maturità abbiamo creato delle playlist mirate per quanto riguarda certe discipline come quella di progettazione multimediale che abbiamo intitolato Cronaca dal rifugio casa e special Io resto a casa. Cronaca dal rifugio casa ricalca la maggior parte di quelle che sono le vocazioni all'interno dell'indirizzo della comunicazione multimediale nel nostro indirizzo. In pratica a partire da quando ci siamo fermati a casa fino a perdurare il periodo finché non si tornerà a scuola dovranno realizzare una cronistoria giorno per giorno di ciò che sono le sensazioni e commenti che ritengono di voler comunicare alla società. Invece io resto a casa a uno mini special di un minuto e mezzo dove possano essere molto più creativi ed evocativi e in qualche modo questo video brevissimo possa lanciare come un messaggio a una popolazione più ampia soprattutto mantenendo quelle che sono prerogative anche di speranza in qualche modo. La cosa più positiva è che loro hanno raccolto molto positivamente questa ancora di salvezza e stanno dimostrando di avere una grandissima capacità di voler essere imprenditori della loro realtà e di mostrarla. Quindi l'esito è più che positivo, noi siamo molto soddisfatti.